più forte il verona o c'è stata una serata un po magari imprevista da parte del perugia non era quello che hai pensato di fare in campo ma l'avversario forte per me che faceva girare la palla tra velocità oggi ho visto da bordo campo la palla gira più veloce rispetto ad altre partite loro hanno una buonissima squadra la loro arma migliore è questo palleggio che ti fa correre molto noi per evitarlo siamo stati un po disordinati soprattutto il primo tempo dove siamo stati un po disordinati abbiamo speso troppo per me perché dovevamo schermare meglio con le tre punte qualche palla dentro per i loro due quando venivano a palleggiarci due centrocampisti aggressivi poco su a volte il ritardo sulle aggressioni dove arrivavamo a metà strada ci trovavano comunque spazio per giocare siamo stati un po disordinati comunque squadra non brillantissima oggi e poi alla fine comunque così d'orgoglio abbiamo provato a rimetterla a posto ultimi 15 minuti però troppo tardi cosa manca secondo te per fare questo salto di qualità insomma che ogni volta questi appuntamenti poi padescono sempre ma non lo so non lo so per me comunque ho detto una giornata dove non siamo stati brillanti il verona ha tirato non tantissimo ha trovato un primo gol su un calcio piazzato il secondo su una dormita generale però dai anche se hanno comunque mantenuto la palla spesso hanno per me hanno tirato poco noi dobbiamo far meglio davanti due tre situazioni per fargli qualcosa potevamo sfruttarle meglio siamo stati un po imprecisi per fare il salto di qualità che cosa ci vuole non lo so domani magari analizzo analizziamo la partita di oggi qualcosa ci manca comunque inutile negarlo quando incontriamo squadre così magari che ci palleggiano di più facciamo fatica a riprendere la partita quando dominiamo noi quando ci abbiamo la palla noi siamo molto più bravi ti chiedo un giudizio sulla prova di kingsley ti chiedo se non poteva essere anticipato forse il cambio della 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 punta prima allora la scelta di king nasce pure da un problema di anne che non ha potuto iniziare la partita aveva una un minutaggio limitato anche se ci avevo pensato a farlo giocare comunque e poi dopo hanno così ha avuto qualche problema entrato alla fine ma per me king ha fatto ha provato soprattutto c'è stato il primo tempo ha avuto due situazioni dove poteva fare qualcosina meglio una palla dietro poi magari non è il suo ruolo però magari ci dà quel dinamismo quella corsa che che magari questa squadra richiede che ha bisogno sempre costantemente poi non tutte le cose poi alla fine ti vengono perfette magari comunque è una cosa l'esperimento che non va per me buttato mister torno sul concetto del verona che ha tirato poco quasi niente il primo tempo no dove il perugia paradossalmente ha sofferto di più il palleggio del verona chiedo c'è stata nell'intervallo l'idea di dire adesso siccome non ho sofferto più di taccia ho sofferto ma non hanno tirato provo anche a vincerla ci metto subito una punta in più no ma la punta in più l'avamo mettere alla fine abbiamo visto che comunque loro concedevano spazio dietro la linea di di della difesa perciò i spazi per correre lì c'erano e chiesle magari è un interprete importante su quei spazi non è lavoriamo vincerla dall'inizio però poi dopo c'è l'avversario poi abbiamo preso cosa sul calcio piazzetto è cambiata la situazione ma non è che uno entra adesso pareggiamo dopo vinciamo e poi è diverso ciao senti tu più volte sostenuto come questa squadra quando paradossalmente diciamo non pensa e gioca a libertà diventa molto pericoloso in quell'ultimo quarto d'ora si è visto quel tipo di perugia proprio che ha messo in difficoltà il verona proprio perché ha giocato con le armi che conosce meglio una squadra sbarazzina una squadra diciamo che si è buttata su tutti i palloni rischiando il tutto per tutto e ha messo in difficoltà il verona ma che significa non pensa non pensa no nel senso che non è nel senso che gioca a ritmi elevati cercando veramente magari di evitare di attendere il possesso palla del verona attaccandola rischiando anche qualcosa di più intendo dire ma io dico che abbiamo provato abbiamo provato pure all'inizio essere così però abbiamo visto che siamo usciti forte due tre volte ci hanno trovato alle spalle e così siamo un pochino andati un po' indietro poi alla fine un po' di sperazione e per me è coinciso anche con calo loro perché per loro pure sono calati e bisogna essere onesti e perciò per me noi proviamo a far sempre la stessa partita nel senso andare a prendere però alla fine le uscite quando esci devi uscire con i tempi giusti per me abbiamo sbagliato i tempi tante volte quando esci con i tempi sbagliati è meglio magari star dietro abbiamo fatto due tre errori dove ci hanno spaventato ci hanno trovato dietro la linea di centrocampo due tre palloni e perciò lì ci siamo un po' tenuti dietro per me ho detto siamo stati disordinati soprattutto il primo tempo dove non puoi concedere una squadra come il Verona tutto quel palleggio che è la loro arma se riesci a toglierglielo vanno in difficoltà noi abbiamo fatto fatica a toglierlo per me è stato lì so che non vuoi parlare di obiettivi ma questa squadra di playoff ci può arrivare? ci può provare sicuramente obiettivi come fai? una partita così poi dall'altra serenità la squadra come abbiamo detto prima fa fatica a trovare essere costante nei risultati perciò per me stiamo lì siamo attaccati vedremo ancora mancano tante partite vedremo tra sei sette quando mancheranno tre alla fine capiremo dove siamo tanti punti a disposizione ancora oggi è una sconfitta che brucia perché le aspettative nostre di tutti sono sempre altissime ma non ci deve buttare giù di morale credo che comunque gli ultimi minuti siano stati fatti con orgoglio hanno fatto vedere che comunque la squadra ci prova fino alla fine però a volte c'è anche un avversario magari un po' forte che ci ha messo in difficoltà e guardiamo alla prossima non mi butto giù per una sconfitta ne mi salto per una vittoria dico sempre la stessa cosa io ho grande fiducia in questa squadra vedrete che comunque alla fine fine anno quando tireremo la linea qualcosa avrà fatto senti il primo gol su calcio d'angolo è già successo anche in altri per centi partite che l'uomo che viene a saltare da dietro quasi in terzo tempo becca sempre la palla di testa bene con la salernitana mi sembra ha sfiorato il gol e oggi invece c'è un problema ma l'avevamo preparata sì ma Dragomir è lì fuori area per sporcare le corse lo segue fino a un certo punto per non fargli prendere velocità e poi dopo no e dopo c'è il marcatore arriva lì il marcatore che va a contatto e lo cerca il problema è che abbia concesso 15 calcio d'angolo prima o poi lo pigli se lasci 15 15 volte prima o poi dagli e dagli magari ti fanno anche gol troppi calcio d'angolo che regaliamo tanti oggi 15 sono tanti mister buonasera buonasera volevo chiederti tu hai detto che hai scelto Kisley per determinate ragioni forse un pochino più avanti l'ho visto un po' soffrire perché lui se parte con le spalle e la porta soffre un po' se invece vede la porta davanti parte un pochino più indietro ma la partenza è più larga non è spalla alla porta era larga perciò è una zona che lui conosce bene non era proprio spalla alla porta alla punta centrale era un pino esterno che poi andava dentro attaccava la schiena del centrale una volta ci si è buttato poteva metterla meglio la palla però era in una zona di campo dove lui comunque la conosce non è che l'abbiamo messo a fare il numero 9 di sponda per me ci poteva stare poi le cose se vinci magari ti vanno bene se no certo volevo chiederti comunque il primo tempo il Perugia non ha subito quasi mai è vero che abbiamo detto ha fatto una partita passiva ma comunque ha difeso bene e non ha concesso occasione quanto ti scoccia che il gol sia nato da una situazione del genere perché poi fino a quel momento il Verona aveva fatto poco pur avendo il possesso del pallone ma per me il primo tempo abbiamo speso ci ha stancato il primo tempo perché eravamo imprecisi eravamo disordinati abbiamo fatto corse che per me non dobbiamo fare se sei più ordinato fai meno corsa perché la partita dura 90 minuti e se spendi tutto nel primo tempo magari al secondo fai più fatica bisogna difendere tutti i più ordinati così è questo l'impressione mia che in quei sei minuti dal primo al secondo gol del Verona prima si era visto un tipo di partita abbiamo detto una partita sofferta però comunque in cui il Perugia non aveva rischiato più di tanto nei sei minuti dal primo al secondo gol del Verona il Perugia ha sbandato e ha sbandato secondo me non so se posso dire una stupidaggine per motivi di gioventù di perdita di certezze improvvise poi una volta subito il secondo gol ha ripreso il filo perché non aveva quasi più nulla da perdere non so se sei d'accordo forse questa squadra manca un po' di consapevolezza di maturità di mestiere per certi momenti difficili no forse se non me la ricordo bene forse abbiamo sbandato dopo il primo in quei minuti prima prima o il secondo sì abbiamo ripreso subito il secondo ma ho detto il secondo gol viene fuori da due veli tre veli hanno fatto hanno fatto passare per me abbiamo dormito perché non è che ha sbandato è che a volte ho detto quando perdiamo le distanze perdiamo densità in fase difensiva può succedere anche che due veli quello ti tira ti fa gol dobbiamo essere un pochino più più densità fare più densità a volte ci isoliamo difendiamo individualmente se perdi densità ci sono troppi spazi dove la palla può girare posto? grazie